Buongiorno, buonasera. Allora, vorrei parlare del discorso trazioni zavorrate, depressione scapolare e adduzione scapolare. Allora, ho messo un video in cui ho fatto il mio personal record di trazioni supinate alla sbarra con peso in cintura, quindi trazioni zavorrate. E come mi aspettavo sono arrivate diverse critiche in merito all'assetto scapolare. Vi prego di capire che io avevo due opzioni. Opzione 1, fare le trazioni perfettamente depresse e addotte e arrivare fino a un certo punto di altezza, fino a un certo punto in altezza, scusate, fino a un certo livello di altezza. E da lì ero pronto, sarei stato pronto a subire critiche del tipo non hai finito il movimento, il mento non passa alla sbarra, il mento non passa alla sbarra, si chiamano chin-up, tu non hai elevato il mento sopra la sbarra e questa era l'opzione che volevo evitare assolutamente. L'opzione numero 2 era quella di avere quel minimo di depressione scapolare sufficiente per salvaguardare le spalle e fare tutto il movimento completo, dal braccio perfettamente disteso fino al braccio completamente piegato. Io ho scelto la seconda opzione, perché sapendo che avrei comunque subito delle critiche, preferivo subire critiche sullo stile e non sul prodotto finale. Io in quelle trazioni che ho mostrato sia nella quadrupla A41 che nella singola A66, io ho mostrato un movimento completo. L'assetto scapolare era appena sufficiente a garantirmi sicurezza nelle spalle. Quando io faccio le trazioni supinate io cerco di avere quella extra rotazione omerale sufficiente per tenere la glenoide al sicuro e quel minimo di depressione scapolare per consentirmi di usare i muscoli risparmiando le articolazioni. Quindi io tra passare per uno che mangia la ripetizione, che riduce il rom, seppur con buono stile, oppure passare per quello che fa tutto il movimento ma corrompe un po' la tecnica, ho preferito, come scuola bulgara magari puoi insegnare, portarmi a casa i chilogrammi e trascurare un pochino lo stile. Quindi io preferisco alzare un po' sporco ma alzare completamente in full range of motion un carico. Quindi io ero preparatissimo a ricevere le critiche sullo stile ma ho completato tutta l'alzata in ogni singolo grado di movimento. Preferisco portarmi a casa un record che essere elogiato per uno stile particolarmente pulito. Nonostante io nel corso della mia carriera abbia sempre cercato di tenere un occhio sulla tecnica, sullo stile, ma in realtà la mia è sempre stata una... io ho sempre avuto parametri tecnici orientati alla sicurezza. A me interessa stare nei parametri tecnici della sicurezza, non uscire mai da quei paletti lì. Poi il discorso degli infortuni. Io ho subito l'ultimo infortunio vero e proprio nel 2003, parlando di pesi, poiché le arti marziali, ho avuto fratture al naso, ho avuto contusioni, fratture alle dita, ma parlando di lavoro con i pesi, il mio ultimo infortunio vero e proprio è avvenuto nel 2003, quindi 18 anni fa. Le mie trazioni alla sbarra mi consentono di stare in sicurezza con le spalle. Di conseguenza non ho particolari infortuni nell'eseguire le trazioni elevando leggermente delle scapole in chiusura, perché l'elevazione delle scapole in chiusura non comporta rischi, in quanto l'omero non è più in leva, ma è quasi in chiusura rispetto al radio, rispetto all'ulna, quindi questa elevazione scapolare la faccio verso la fine, quando ormai la proiezione ortogonale dell'omero non è più massima, ma è minima. In questo modo io sono perfettamente al sicuro con le mie spalle. In merito alla community dello streetlifting, del calisthenics, io qua con voi non competo neanche. Sicuramente persone che come voi eseguono meravigliosi volteggi alla sbarra, prove di forza mirabolanti addirittura con i sollevamenti a un braccio, persone come voi sono di un'altra categoria rispetto a un umile rottame di 39 anni che ormai fa più che altro l'insegnante, io le mie cartucce ormai le ho già tirate, le ho già sparate. Io apprezzo sicuramente il vostro contributo, riconosco da parte vostra uno stile di trazione più pulito, però io avevo 66 kg in cintura, io non devo fare gli ingressi alla sbarra, io non devo fare il one arm pull up, come si chiama, insomma le trazioni a un braccio, ecco sono italiano. Comunque posso timidamente aggiungere che io ho visto degli streetlifter fare le trazioni a un braccio, lì a livello di adduzione e depressione scapolare non c'è nulla, nulla. Ci sono ragazzi molto leggeri, molto agili che si sollevano a un braccio, addirittura cercando di toccare con la spalla la sbarra. Peraltro io aggiungo che seguo su Instagram, Tazio Il Biondo, che ho visto anche infrangere il record di Salmon Leather, cioè la salita della scala col bastoncino di legno che si attacca sempre più in alto, ho visto Tazio Il Biondo scalare balconi, l'ho visto fare record di trazioni soppinate, pronate scusate, fare le trazioni con i mignoli tenute in statica, lui sicuramente è un artista della resistenza e ha un bellissimo stile, ma io però ho fatto una prova di forza, ecco, con un peso in cintura e mi sono dovuto legare una catena da un chilo intorno a una cintura da arti marziali in cotone grezzo che tenesse il carico e da lì ho sollevato me stesso più 66 chili. Io attualmente sono sui 98,5, quindi il peso era parecchio sulle mani, insomma. Questo è quanto. Sicuramente apprezzo il contributo tecnico di queste persone, volevo aggiungere anche un'altra cosa, io vengo dalla pesistica e poi ho perfezionato anche per conto mio i movimenti della pesistica anche antecedenti a quella attuale, quindi militari pressi, lento avanti. Allora, se io vedo un culturista come può essere, va bene, lo dico Andrea Presti o, non so, Danny Lazzarin fare le spalle, appoggiato a uno schienale, magari imbottito e al multi power, è chiaro che io giudico quella roba lì molto scadente, ma io non scriverò mai sotto un video di Presti il tuo lento avanti fa schifo, non si allena le spalle. Lui deve colpire quel pezzo di carne lì e lo fa con tutti i comfort, a lui non interessa sviluppare capacità coordinative, a lui interessa essere grosso, definito, eccetera, eccetera. Io ho visto Danny Lazzarin nella sua palestra, adesso non mi ricordo il video era di qualche anno fa, lui si è fatto costruire uno schienale da mettere dietro le spalle, ci si appoggia e fa il lento avanti appoggiato, seduto e appoggiato, tipo panca molto inclinata. Però quello non è neanche lento avanti, però lui deve allenare le spalle in quel modo lì perché si vede che ha delle difficoltà a eseguire le alzate in piedi, non lo so, lo fa per comfort, ma io non mi sono mai sognato di andare a scrivere. Guarda Danny che secondo me è lento avanti. Ma ciascuno è il suo, insomma, ecco. Comunque, per chi fosse preoccupato per la mia integrità articolare, per la mia incolumità fisica, posso dire che le mie trazioni sono nei parametri di sicurezza, nei miei parametri di sicurezza. Posso anche aggiungere che al momento non ho mai avuto clienti infortunati nell'eseguire le trazioni, anche perché ciascun soggetto ha la sua presa migliore. Io ho addirittura clienti che eseguono le trazioni con quelle bananine di gomma, con il nastrino nero, si chiamano angles grips, se ricordo bene. Altri ancora che eseguono proficuamente delle trazioni agli anelli perché hanno fastidi ai polsi o infortuni pregressi da prima ai gomiti. Altri ancora che si trovano benissimo con le classiche trazioni larghe in cui vanno su col petto e poi anche lì dipende dalle leve di ciascuno. Io ho dei clienti che riescono a trazionarsi agevolmente per tante ripetizioni battendo il petto sulla sbarra, sulla trave, sul traverso anteriore e altre persone che nelle trazioni prone fanno fatica ma ha la pena passare il parallelo, quindi superando con la spalla il gomito. Quindi questo è quanto. Per riassumere il video avevo due scelte. Uno, fare una trazione stilistica ma magari incompleta o con meno carico, oppure due, fare una trazione completa, poco stilistica magari ma con tanto carico in più. Ho scelto la seconda strada. Quindi io accetto sicuramente con grande tranquillità tutte le critiche che vengono da un mondo specializzato in quel tipo di gesto atletico e questo è quanto. vi ringrazio comunque come al solito per la cortese attenzione. Se fossero dubbi sull'argomento sarò lieto di trattarlo ulteriormente. Aggiungo che per quanto riguarda il discorso streetlifting per me è una realtà assolutamente fresh. Io sono molto favorevole allo streetlifting perché è un qualcosa di diverso dal solito powerlifting fatto di magnesite, fascette, magliette, corpetti, ginocchiere. È una cosa più urban, più immediata, più veloce e forse anche un repertorio di esercizi più magari completo visto che nel powerlifting manca una vera e propria tirata che sono due accosciate e una spinta anche sì nello stacco da terra le braccia tirano ma non tirano in modo attivo, non c'è una trazione di bicipiti. Le braccia sono due catene inerti, la mano tiene il peso e poi le gambe fanno nel lavoro. Quindi streetlifting, big up, in realtà molto interessante e quindi da parte mia c'è la massima apertura, io sono disponibilissimo ad ascoltare e a valutare tutte le critiche o comunque anche costruttive o distruttive, tutti gli appunti che possono venire da quel tipo di realtà. Marco Pitti, grazie per l'attenzione, alla prossima.